Tempa Rossa, la regione è pronta a presentare la diffida per la sospensione delle attività di collaudo della Totala multinazionale, avrebbe avviato i test in assenza delle autorizzazioni. Il centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio ha ospitato 1.600 migranti dal 2014. Il dato è contenuto nel report che la vicepresidente Franconi ha consegnato a Foggia al vicepremier Di Maio. Sono state prorogate alla fine del 2018 le attività connesse alla misura del reddito minimo e quanto ha comunicato ai sindaci l'assessore alle attività produttive Roberto Cifarelli. Gestione dell'acqua, la giunta regionale di Basilicata ha approvato il piano per la sicurezza delle dighe. 16 gli interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica ed eliminare gli sprechi. Calcio, tutto pronto per la gara di Coppa Italia tra Potenza e Bisceglie, ma il protagonista è il Viviani, oggetto di un restyling che sta facendo discutere. Buongiorno dalla nuova Tg. In primo piano c'è il petrolio. La regione di Fida Total impone la sospensione dell'attività estrattiva a Tempa Rossa. Dopo l'avvio della fase di collaudo nell'impianto della Valle del Sauro, gli uffici regionali hanno verificato l'assenza delle autorizzazioni previste. Intanto i cittadini lamentano cattivi odori. Sentiamo Mariolino Targiacomo. E sul tavolo del Dipartimento Ambiente della regione Basilicata un provvedimento di diffide e sospensione delle attività di collaudo avviate dallo scorso 30 agosto a Tempa Rossa dalla Total, oggetto del testo l'ipotesi di blocco delle attività di estrazioni avviate dalla multinazionale nell'impianto della Valle del Sauro, qualora la verifica degli uffici regionali dovesse accertare il mancato rispetto delle procedure autorizzative da parte della società petrolifera. Il piano di monitoraggio ambientale presentato dalla Total potrebbe non aver ottenuto l'ok da parte di ARPAB e del Dipartimento Ambiente, ma solo quello dell'UNMIG. I test sono partiti lo scorso 30 agosto con una produzione minima di greggio che va dai 3.000 ai 5.000 barili al giorno rispetto ai 50.000 previsti per la fase effettiva. Gli uffici regionali hanno sottoposto a verifiche documenti prodotti da Total per comunicare l'avvio delle prove di estrazione e per capire se l'operazione stia rispettando meno le autorizzazioni ambientali. In caso negativo si profila una sospensione dei lavori. Total, dal canto suo, aveva comunicato da tempo le proprie intenzioni, inviando una lettera alla regione il 13 agosto scorso dopo un incontro con ARPAB. In attesa dell'esito delle verifiche, le operazioni tecniche vanno avanti ormai da qualche giorno. Intanto i cittadini segnalano cattivi odori nelle vicinanze del centro olio, dove da giorni brucia la fiaccola di sicurezza. Da parte sua Total ha predisposto comunque un piano per il controllo della qualità dell'aria. Gestione illecita dei rifiuti. I carabinieri forestali della stazione di Matera hanno rinvenuto in località Vetrino, in una cunetta adiacente in area sottoposta a vincolo paesaggistico, un cumulo di rifiuti speciali di natura pericolosa. Accumulati diversi tubi contenenti presumibilmente amianto, scarti di pannelli di cartongesso derivanti da ristrutturazione edilizie. L'accaduto è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Questione migranti, la Basilicata è una regione accogliente e quanto ha affermato la vicepresidente Franconi ieri affogge in un incontro con il ministro Luigi Di Maio. 1.600 migranti, il numero degli stagionali ospitati a Palazzo San Gervasio. Il dato è contenuto nella relazione consegnata all'esponente di governo. Sentiamo, Lucia Petrafesa. Dall'2014 al 2017 nel centro di accoglienza allestito dalla regione a Palazzo San Gervasio sono stati ospitati oltre 1.600 migranti impegnati nella raccolta dei prodotti agricoli a fronte dei 4.500 migranti che risultano assunti nell'area bradanica e uno dei dati che la vicepresidente della giunta regionale della Basilicata, Flavia Franconi, ha fornito nella relazione consegnata a Foggia al ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio. Nel definire quella lucana regione accogliente, Franconi ha illustrato al ministro il quadro normativo e i provvedimenti amministrativi adottati negli anni dalla regione per accogliere i migranti che sono impegnati nell'area bradanica nella raccolta dei pomodori. La Franconi ha spiegato come funziona il centro a Palazzo San Gervasio, destinato al ricovero momentaneo dei lavoratori e dotato di tutti i servizi essenziali di prima necessità. Differente la situazione nel metapontino perché la presenza dei lavoratori stagionali è ridotta al minimo, dal momento che molti lavoratori extracomunitari, prestando attività per quasi tutto l'anno, vivono stabilmente in quel territorio. Per quanto riguarda i progetti futuri, proprio nel metapontino, ha scritto Franconi nella relazione al ministro Di Maio, si va verso il potenziamento dei servizi e il completamento dell'immobile di proprietà della Città della Pace, fondazione partecipata dalla regione per la realizzazione di 100 posti letto per i lavoratori dell'area. Il totale dei posti da realizzare è di 600. Ancora cronaca, un 27enne richiedente asilo ospite del centro di accoglienza temporanea di Tito è stato arrestato dai carabinieri di Potenza in fragranza di reato per furto aggravato. Il giovane, a bordo di un autobus di linea proveniente da Melfi e diretto al capoluogo, approfittando della distrazione di un passeggero, aveva sottratto il telefono cellulare dimenticato da quest'ultimo sul sedile. L'extracomunitario è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la struttura di Tito. Reddito minimo, attività prorogate fino alla fine dell'anno. L'assessore Cifarelli ha comunicato la proroga della misura per la lotta alla povertà a tutti i sindaci. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Prorogate fino al prossimo 31 dicembre le attività del reddito minimo di inserimento, la misura di sostegno introdotta dalla Regione Basilicata per fornire un sussidio a migliaia di persone indigenti in cambio di attività di pubblica utilità. La proroga è stata comunicata dall'assessore regionale alle politiche di sviluppo, Roberto Cifarelli, a tutti i sindaci della Regione. Lo scorso 31 agosto la Regione Basilicata ha approvato la misura attraverso un'apposita delibera. L'assessore Cifarelli nella nota chiede ai primi cittadini di fornire adeguata informazione ai dipendenti comunali e agli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti di pubblica utilità e ai beneficiari che risiedono nei rispettivi comuni e di porre in essere gli adempimenti necessari, come la proroga delle assicurazioni INAIL e la verifica del rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro a consentire la prosecuzione dell'attività senza soluzione di continuità. I beneficiari ricevono il sussidio direttamente su una card con tutte le funzioni di un bancomat. Restiamo in tema lavoro. Al via le domande online per ottenere i voucher previsti dall'avviso pubblico destinazione 35. L'avviso è rivolto alle persone in stato di disoccupazione che hanno compiuto i 35 anni di età e ai disabili. A partire dalle ore 8 di oggi e fino alle ore 18 del 31 dicembre può essere presentata online la domanda di partecipazione per la concessione del voucher individuale. Per partecipare al bando occorre compilare online il formulario di domanda sul portale istituzionale della regione Basilicata alla sezione avvisi e bandi. Possono presentare domanda di assegnazione del voucher individuale le persone residenti in Basilicata in stato di disoccupazione che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto i 35 anni di età oppure hanno compiuto i 18 anni e sono iscritte nell'elenco delle persone con disabilità. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Nuova Impianti a Potenza progetta e realizza qualsiasi tipo di impianto per la vostra abitazione o per locali privati e pubblici scegliendo tra le migliori soluzioni sul mercato in termini di qualità e affidabilità. Nuova Impianti di Aldo Capitini 26 a Potenza Per informazioni il sito noveimpiantipotenza.eu mail info chiocciola nuovaimpiantipotenza.eu Scegliete subito l'impianto che vi farà risparmiare energia. Colleghiamo ogni giorno Puglia e Basilicata. Stiamo migliorando i nostri servizi. Stazioni più moderne, accessibili e sostenibili. Stiamo lavorando per una linea più moderna, sicura e veloce. 21 chilometri di radduppio entro il 2019. 30 chilometri entro il 2022. Ferrovie a Pulo Lucane. Il futuro è il nostro viaggio più importante. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro Tg con la cronaca. Tre persone, madre e due figli, sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri di potenza per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno accertato che tre soggetti, rispettivamente di 79, 54 e 51 anni, avevano coltivato e detenevano 13 piante di cannabis. Voltiamo pagina. Finito il tempo dei sermoni diretti alle istituzioni di Monsignor Superbo. Avvigiano, nessun monito al mondo politico, Monsignor Ligorio ha infatti preferito mantenere un profilo prettamente religioso nel corso della tradizionale messa dedicata alla Madonna, padrona della Basilicata. Il servizio è di Michelangelo Russo. Qualcuno rimpiangerà le omelie a cui ci aveva abituato nel corso degli anni Monsignor Agostino Superbo quando Avvigiano, davanti ai potenti della terra lucana, a corsi per la celebrazione della messa dedicata alla Madonna, padrona della Basilicata, non risparmiava dure critiche e accorati appelli a fare di più e meglio. Questa volta Monsignor Salvatore Ligorio ha preferito un profilo tutto religioso, senza alcun riferimento nemmeno indiretto ai problemi della gente e alle risposte della politica dovute ai bisogni dei cittadini. Sono invece rimaste nella memoria dei politici, meno distratti, le parole di Monsignor Superbo, in più occasioni e soprattutto nella festa della Madonna Nera, monito pesante per la classe dirigente e politica della regione, perché diceva dal grande altare di Vigiano che non c'è nulla da festeggiare in una situazione di emergenza sociale sempre più pesante che vive l'intera comunità regionale. È sicuramente impresso nella memoria il suo appello, servono passi di speranza, che sferzava con linguaggio diretto l'operato degli amministratori regionali. Anche questa volta i politici sono stati in prima fila nella più importante festa cattolica lucana, con qualche assenza vistosa, non solo Marcello Pittella, rispetto allo scorso anno, ma anche con qualche nuova presenza, Carmen la sorella. Non è facile interpretare il nuovo corso della conferenza episcopale di Basilicata, che in verità non si può considerare omogeneo. In contemporanea, infatti, il vescovo di Tursi, Lago Negro, Monsignor Vincenzo Orofino, lanciava il suo monito. Servono alla Basilicata guide illuminate, andando anche oltre per indicare alcune idee per lo sviluppo. Una conferma, quindi, che tra i vescovi lucani non si parla la stessa lingua. Si è conclusa fortunatamente bene la disavventura che ha caratterizzato la giornata di ieri di un 74enne di Potenza. L'uomo era scomparso e a seguito delle denunce dei familiari è stato soccorso dal personale della Polizia di Potenza. Le ricerche hanno fatto sì che il 74enne fosse immediatamente identificato. Dopo essere uscito per una passeggiata, l'uomo è stato trovato nei pressi del nuovo cimitero di Potenza e trasferito all'ospedale San Carlo per ricevere le cure necessarie. La richiesta di aiuto è stata inoltrata nella tarda mattinata di ieri con una telefonata al 113. L'uomo era uscito alcune ore prima senza però fare rientro a casa. Durante le ricerche gli agenti hanno rintracciato l'auto del 70enne parcheggiata nelle vicinanze del nuovo cimitero e hanno concentrato i controlli nella zona. Intorno alle 16 l'uomo è stato trovato in una buca coperta dalla boscaglia. Molto probabilmente durante la passeggiata vi è caduto dentro, non riuscendo però a muoversi per le ferite riportate e neppure a chiamare aiuto. Cambiamo argomento con la gestione dell'acqua. La giunta regionale di Basilicata ha approvato il piano per la sicurezza delle dighe. 16 gli interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica ed eliminare gli sprechi. Sentiamo Alessandro Panuccio. Sicurezza delle dighe ma anche capacità di immagazzinamento degli invasi lucani oltre alla possibilità di eliminare gli sprechi. L'acqua è un bene primario e per questo motivo va tutelato. Con questo obiettivo la giunta regionale di Basilicata ha approvato un programma con 16 interventi il cui fine è l'adduzione primaria, ovvero il passaggio dai punti di prelievo dell'acqua potabile ai serbatoi oltre al mantenimento e al ripristino delle capacità di immagazzinamento degli invasi della Basilicata ammessi ai finanziamenti europei per un ammontare di 27 milioni di euro. Sette sono tesi ad aumentare la capacità di invaso ma anche a mettere in sicurezza le dighe. 9 per migliorare la grande adduzione e per eliminare dispersioni e aumentare le disponibilità di acqua. Un programma di particolare importanza frutto di una sinergia fra le parti afferma l'assessore regionale all'ambiente Francesco Pietrantuono. I beneficiari delle 16 operazioni sono l'Apli, il Consorzio di Bonifica della Basilicata, il Consorzio Industriale Asi Potenza e il Consorzio Industriale Asi Matera e i finanziamenti saranno erogati secondo un piano finanziario per annualità redatto nel rispetto degli obiettivi procedurali e finanziari dei programmi FESR e FSC. Vogliamo rendere sempre più snelle e veloci, ha sottolineato ancora l'assessore, la fase di autorizzazione provvisoria per la progettazione e la realizzazione di impianti. Tutto questo sarà molto importante anche dal punto di vista dell'economia e dell'occupazione dal momento che apriremo molti cantieri in tutto il territorio lucano. E adesso la pagina sportiva e la maglia simbolo del ciclismo, resa epica da Binda, Coppi, Merckx e Ora Sagan, è l'icona della leggenda. Chi la indossa è il campione del mondo, come Tommaso Elettrico, che domenica a Varese ha vestito la maglia arcobaleno per la prima volta nella sua lunga carriera. Elettrico ha tagliato per primo il traguardo di Varese, di dove dieci anni fa Alessandro Ballan conquistava l'ultimo titolo mondiale tra i professionisti per l'Italia. Il gran fondista materano ha chiuso il percorso di 130 chilometri e 2000 metri di dislivello in tre ore, 24 minuti e 36 secondi, precedendo i belgi Neil Merckx e Remy Carat, con un'azione esplosiva nel finale che gli ha permesso di conquistare il titolo. La Serie C, tutto pronto per la gara di Coppa Italia tra Potenza e Bisceglie, che si giocherà domani. Ma il protagonista principale è lo stadio Viviani, oggetto di un restyling che fa discutere. Sentiamo Luigi Santopietro. L'atteso ok è arrivato. Il match di Coppa Italia tra Potenza e Bisceglie si giocherà. E si giocherà a Viviani. Non una precisazione banale, ma decisiva, perché il rischio era che la partita non si disputasse affatto, con la possibilità di uno 0-3 a tavolino che avrebbe avuto del clamoroso. Ma alla fine, almeno il minimo indispensabile è stato garantito. Il problema grosso era quello degli spogliatoi. I rosso-blu dovrebbero accomodarsi in una parte della nuova struttura, mentre ospiti e arbitri verranno allocati in due spogliatoi mobili. Start previsto alle 17 con i biglietti che oscilleranno tra gli 8 e 20 euro in base ai settori. Intanto proseguono anche i lavori esterni allo stadio con le strutture per il prefiltraggio, già soprannominate le gabbie, che stanno cambiando i connotati degli ingressi a Viale Marconi e in Via Viviani. Opere necessarie per rispettare i parametri della partecipazione ai campionati professionistici, ma che stanno creando qualche malcontento tra i tifosi e i cittadini, oltre che agli ambulanti del mercatino costretti a emigrare in Via Carlo Lepore nell'intersezione tra Viale Marconi e Via Nazerosauro. Tornando alla gara, certo non si tratterà di una partita di grido, visto sia la difficile situazione in cui verse il Biceglie, sia il fatto che al Potenza basterà perdere 2-0 per passare il turno. Ma la città ha voglia di calcio e vuole vedere all'opera la squadra in un match ufficiale, mentre ancora più importante sono le risposte che Ragno cerca e pretende dai suoi, in particolare dopo il test poco convincente col Picerno. Da parte mia è tutto e vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata.